Identifica i tuoi clienti migliori. Oggi voglio parlarti di una strategia alquanto semplice tutto sommato da applicare ma che purtroppo pochissimi imprenditori o libri professionisti fanno, ovvero quello di identificare il proprio cliente ideale. Oggi vediamo una strategia diciamo un po' atipica. Il punto chiave, il problema principale è che purtroppo la maggior parte di queste persone, degli imprenditori, si focalizza sui clienti come se fossero un'unica entità, senza rendersi conto che di fatto ogni cliente è diverso o perlomeno e per questo senza cercare di classificarli in qualche modo. Ora ti faccio qualche esempio simbolico giusto per capire in maniera chiara la differenza. Immagina di essere un massaggiatore, tu avrai delle persone che vengono quando hanno bisogno per fare l'occorrenza, quindi oggi ho mal di collo, domani vado a fare un massaggio, fine. Ci saranno poi quei clienti che hanno l'abitudine ad esempio di andare una volta al mese, ci saranno altri clienti che hanno l'abitudine di andare tutte le settimane, due volte al mese, tre volte al mese, quello che è. Insomma quello che possiamo fare è cercare di creare dei gruppi di potenziali clienti che abbiano delle caratteristiche simili. Ad esempio, per mantenere appunto questo esempio, le persone che vengono all'occorrenza, le persone che vengono almeno una volta al mese, le persone che vengono, non so, più volte durante l'anno ma non in maniera così tanto frequente. Ok, diciamo che già questa piccola divisione ci permette di iniziare a creare dei gruppi per cercare di catturare alcune caratteristiche comuni che hanno tra di loro. Ad esempio le persone che vengono almeno una volta al mese a fare i tuoi massaggi, che caratteristiche hanno? Magari potresti scoprire che sono degli sportivi, fanno tantissimo sport e hanno bisogno di un trattamento ogni settimana magari proprio per mantenersi in forma ed evitare infortuni. Ora, esempio abbastanza banale. Però qual è il punto? Il punto è che nel momento che vogliamo far crescere la nostra attività ha molto più senso concentrarci nella ricerca di clienti che vengano da noi tutte le settimane rispetto a chi viene due volte l'anno perché ci rendiamo veramente conto da solo quanta differenza in termini economici e quindi di valore economico abbia un cliente rispetto che l'altro. Quindi riuscire a identificare le caratteristiche comuni che hanno queste persone è assolutamente un passaggio necessario. Ora, nell'esempio del massaggiatore è abbastanza semplice come cosa? Se ci spostiamo in business un pochino più complessi diciamo che può essere più difficile riuscire a trovare questi elementi comuni perché immaginiamo di avere un software, quindi vendere un software, cosa molto più difficoltosa. Perché alcuni clienti lo utilizzano in maniera molto più frequente e altri meno? Qui potremmo ad esempio analizzando in maniera approfondita scoprire che chi lo utilizza in maniera molto frequente ha fatto determinati passaggi e ha scoperto alcune funzionalità mentre chi lo usa molto raramente non ha fatto questo percorso. Perfetto, in questo caso ciò che dovremmo fare è cercare di portare più persone possibili a seguire questo percorso per aumentare appunto la frequenza di utilizzo di questo prodotto. Insomma, la logica di tutto ciò è quella di identificare alcuni fattori comuni che hanno i tuoi migliori clienti e iniziare o la ricerca di queste persone che hanno determinate caratteristiche o se ciò che accomuna a queste persone è un passaggio che hanno fatto prima di diventare diciamo dei clienti così attivi è stato un qualcosa di ad esempio previsto. Riprendiamo l'esempio del massaggiatore. Potremmo fare un percorso benessere dove la persona viene da te una volta al mese, una volta fatto quello sta talmente bene che al tuo consiglio successivo di venire una volta al mese per mantenere questa sensazione di benessere tutti ti dicano di sì. Chi non fa quel percorso viene a farsi fare un trattamento, una tantum, a male al collo, gli passa, non torna più. Ok, in questo caso diciamo che la tua attenzione dovrebbe essere focalizzata sul cercare di vendere o proporre questo tuo pacchetto miracoloso ai clienti perché avrà delle conseguenze molto benefiche per tutti, sia per te, per il tuo portafoglio che per i clienti perché staranno molto meglio. Ora l'esempio, ripeto, è abbastanza banale però il concetto dovrebbe essere chiaro. Quindi cerca di creare dei gruppi, delle tipologie dei tuoi clienti, identificare quali sono le caratteristiche che hanno in comune. Lavora su quelle e crea un percorso o un sistema di acquisizione clienti che lavori su questo perché il tuo business in questo modo non potrà far altro che crescere in maniera molto molto veloce. Con queste tutte, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, indipendentemente dal tipo di business che abbiamo, esistono comunque clienti con caratteristiche diverse e riuscire a fare questo raggruppamento iniziale per quanto grezzo possa essere è un fattore fondamentale perché ci permetterà di avere nuovi dati da analizzare e vedere effettivamente il nostro business sotto nuovi occhi. Magari scopri che chi viene da te a fare un massaggio tutte le settimane sono signore tra i 50 e 60 anni. La butto lì. Questo è un'informazione importantissima però potrai scoprirla solo se inizi a creare, diciamo, a fare tutte queste segmentazioni, a creare questi gruppi di clienti e iniziare a estrapolare le caratteristiche che hanno in comune tra loro. Per cui ti consiglio di iniziare a farlo anche in maniera grezza perché i risultati che potrai ottenere sono molto molto importanti. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!